Campionati nazionali universitari 2017. A Catania già partita da un paio di giorni la consueta manifestazione nazionale a livello di Atenei. I CNU rappresentano sicuramente il trionfo dello sport, una sorta di olimpiade ridotta dove tutti i centri sportivi che hanno ottenuto il pass alla fase finale si incontrano per decretare il podio relativo all'anno corrente nelle varie discipline. Presente anche la delegazione del Cus Molise che sarà a Catania con gli sport di squadra basket e calcio a 5. A livello individuale nel karate Lisa Sandonnini difenderà i colori molisani come Letizia De Lisa nell'atletica impegnata in due gare venerdì nei 1500 metri e sabato negli 800. Come dicevamo gli sport di squadra, per il calcio a 5 non è assolutamente una novità la partecipazione alla fase finale. Negli anni le selezioni guidate da Marco Sanginario hanno ottenuto risultati davvero prestigiosi. Ricordiamo la medaglia d'oro storica all'ignano sabbia d'oro nel 2009, l'argento Molise 2010, Torino 2012 e Salzo Maggiore 2015 ed altre due medaglie di bronzo. Insomma il tecnico del Cus Molise è sempre riuscito ad organizzare rappresentative competitive e capaci di lottare alla pari con gli altri Cus d'Italia. Quest'anno qualificazione è ottenuta contro il Cus Napoli al termine di due gare davvero equilibrate. Qualche defezione per il tecnico che deve rinunciare a diversi elementi impegnati con gli esami in questa sessione estiva universitaria. I CNU infatti si sono sempre svolti nella seconda parte del mese di maggio. Il Cusi quest'anno ha deciso di spostare la manifestazione a giugno per permettere la chiusura di tutti i campionati sportivi. Come si dice però la coperta spesso è corta e se da un lato la scelta può essere vantaggiosa dall'altro sicuramente no, visti gli esami universitari in programma a giugno. Per il futsal esordio domani pomeriggio contro il Cus Pisa alle 16.30, avversario storico del Cus Molise. Poi da definire il calendario nel girone con Cus Cagliari e Cus Verona. Qualificazione storica per il basket che mancava alla fase finale di un CNU dal 1998. Il lavoro di Sabatelli e Filipponio ha portato ad un pass decisivo nel return match contro il Cus Verona con un recupero incredibile dopo la sconfitta maturata in trasferta all'andata. La squadra si è allenata e si presenta sicuramente competitiva per queste finali. Esordio domani mattina intorno alle 11 contro il Cus Milano. A seguire da definire il calendario tra Cus Brescia e Cus Parma da affrontare giovedì e venerdì. Rappresentative in viaggio con arrivo previsto in serata.